La crisi migratoria in Venezuela potrebbe diventare presto come quella del Mediterraneo. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Molti venezuelani hanno scelto di lasciare il loro paese a causa della crisi sociale ed economica che attanaglia il Venezuela da diversi anni. Secondo l'ONU sono più di 2 milioni e 300 mila i venezuelani che hanno lasciato il paese dal 2014. Il 90% di loro si è spostato in altri stati del Sud America. L'esodo, secondo l'Organizzazione per le Migrazioni, sta determinando una crisi simile a quelle già viste in altre parti del mondo, in particolare nel Mediterraneo. Il continuo flusso di persone ha spinto alcuni paesi a prendere delle contromisure. Dopo l'Equador, anche il Perù ha annunciato che sarà negato l'ingresso a chi non è provvisto di un passaporto valido. Una mossa che ha colpito centinaia di migliaia di venezuelani, a cui in precedenza bastava la carta d'identità per varcare il confine. Grazie a tutti.